Adesso parliamo di assistenza agli anziani. Ricorderete che l'anno scorso al Ministero della Salute fu istituita una commissione che doveva studiare progetti di riforma dell'assistenza sociosanitaria agli anziani. Questa commissione, dopo un anno di lavoro, ha prodotto un documento, quindi una proposta, che è stata consegnata al Presidente del Consiglio Draghi. Il Presidente della commissione è Monsignor Vincenzo Paglia. A cui diamo il buongiorno e il benvenuto, è venuto qui a uno mattina a raccontarci la sintesi di questa vostra proposta. La sintesi è questa, che attraverso le misure che il governo prenderà, l'intera società italiana si prende cura dei suoi anziani. L'Italia, grazie a Dio, è un paese dove si invecchia e quindi questo vuol dire che il progresso c'è. Siamo il primo paese dell'Occidente ad essere il più anziano. Purtroppo non siamo il paese dove si invecchia meglio. Ecco perché è importante allora prendersi cura di tutti gli anziani, anche perché durante la pandemia gli anziani hanno pagato il prezzo più amaro, più terribile. Ed ecco perché è importante allora prendersi cura di questo nuovo popolo. Per la prima volta nella storia esiste la vecchiaia di massa. Noi, ultra 75 anni, siamo già 7 milioni. E di questi 7 milioni, 2 milioni e 700 mila hanno gravi problemi motori. Quindi sono come costretti a stare a casa. Pensi che 560 mila sono in palazzi senza ascensore dal secondo piano in su. Quindi era indispensabile. Quindi imprigionati. Imprigionati. Poi la soluzione di istituzionalizzarli non è mai bella. Ognuno di noi anziani vuole restare a casa. Laddove sempre ha vissuto o nel paese. In Italia il 70% degli anziani vive in comuni da 60 mila abitanti giù. Tutti i nostri paesi. Ecco perché allora questo progetto prevede l'abitazione come il cuore dell'assistenza. Quindi dobbiamo fare del tutto perché gli anziani, anche i disabili, possono restare a casa. Poi favorire anche le convivenze. Una rete di amicizia per configgere il virus più terribile. La solitudine. Brava. E la solitudine. E l'isolamento. Ecco perché dobbiamo creare una rete di relazioni. E questo è previsto. Come anche sono previsti ad esempio mille centri diurni. perché gli anziani che fanno fatica o hanno problemi anche di Alzheimer o di mobilità possono essere portati da nuovi operatori sociali nei centri e poi riportati la sera a casa. Certo c'è poi anche il momento nel quale non si è più diciamo attivi e c'è bisogno di lunghe degenze si possono fare anche queste ma temporanee. E voglio prevedere anche che ci siano le cure palliative gratuite a casa, a domicilio. Quindi non è una riforma per dare qualche servizio. No, è una riforma che chiede il prendersi cura di tutti. E se ci si prende cura si risparmia tantissimo. Si sta meglio e si risparmia. Ecco perché io sono particolarmente contento quando presentando il piano al Presidente Draghi l'ho accolto anche con qualche entusiasmo. E nei giorni prossimi cominceremo a Palazzo Chigi una cabina di regia che dovrà poi mettere in pratica tutto questo piano che è piuttosto articolato. ma a me pare importante, molto. Senta Monsignore, mi è venuta in mente la storia di quel signore mentre lei ci raccontava quali sono i punti principali di questa riforma la storia di quel signore costretto a casa proprio perché è disabile, proprio perché nel condominio mancava un ascensore e solo grazie all'ecomediatica che il caso ha avuto poi alla fine l'ascensore è stato installato insomma partiranno i lavori e quindi questo signore potrà uscire. Quindi per capire, per dare meglio l'indicazione dei punti più importanti di questa riforma valorizzazione dell'abitare domestico ma anche realizzazione di centri diurni che possano valorizzare le relazioni tra gli anziani avete messo diciamo in conto come realizzare all'atto pratico questa riforma? Beh, ovviamente ci sono già delle indicazioni ad esempio con il Ministero delle Infrastrutture abbiamo già ipotizzato l'abbattimento delle barriere architettoniche quando nei mesi scorsi si parlava che mancavano alcune centinaia di migliaia di anziani per il vaccino e beh, quelli che non potevano muoversi o si va a casa non è che possono andare ai centri a vaccinarsi poi c'è il tema anche della telemedicina delle infrastrutture umane come io le chiamo e cioè favorendo, non so, i contatti dal bar al giornalaio al fruttivendolo se un anziano non viene allora si chiama, si va a visitare oppure prevediamo l'assunzione di almeno centomila nuovi operatori che debbono recarsi nelle case per aiutare le famiglie questo è molto importante ovviamente abbiamo finito il nostro tempo però una domanda gliela voglio fare avete, c'è una stima delle risorse necessarie? dunque noi abbiamo previsto che per 5 anni la stima sono 9 miliardi però abbiamo calcolato che a regime la stima è poco meno di 5 e il risparmio è un po' più di 5 quindi si risparmia esattamente grazie, grazie, naturalmente buon lavoro grazie e buon lavoro anche a voi